Ora di pranzo raga, giudicatemi, giudicatemi, a me non interessa, però raga oggi avevo voglia di panino con una fettina panata, cioè Potevo vedere anche da fare il video, ma no, cioè non è che mi do nasconde Oggi avevo troppa voglia di farmi il panino con due fette di... cioè non ce la faccio più, me lo so sognato stanotte raga Veramente non... la cosa che mi manca di più è il pane con la carne, cioè quindi Giudicatemi, però questo è, questo c'ho voglia, c'ho voglia poco di qualcosa di buono raga Buono Mi sento veramente un pochino in colpa, eh, perché... Dico, cioè fino adesso ho fatto tutto bene, non vorrei rovinare tutto, questo sì Però raga, avevo troppa voglia di una cosa buona, cioè E' questa è, sabato, domenica, 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 martedì, martedì, giudì, sì Che devo fare? Raga perdonatemi Questo è il mio pranzo Non c'è niente Buon appetito raga E c'ho proprio voglia di qualcosa di buono E sono soddisfatta Adesso è felice raga Dico la verità Cioè mi sono sognata da mangiare Ovviamente mi ho mangiato Stasera dieta Poi raga anche mi dà di cenare Buon pranzo raga Io mangio tanti un film Speriamo non mi sono ingrassata Comunque tutti i sacrifici che ho fatto Speriamo non li ho buttati al cesto Speriamo perché Però raga Non c'avevo troppa voglia